ah io ho depilato viole ancora 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 è marioso è rosa è cross se non valo ce vuol dire il pallone che ce ne va a sparire ormai sarà a girare da dietro a porta da dietro a porta è rosa tiro da 3 sono 3 piatti tiro da 3 tiro da 3 è rosa è cross attaccante è un fuorigioco manda qualcuno un attacca ok ok eh ok 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 d ok 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 no ok 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 mamma paragono 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 ok 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 no 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 Sbaglio maravigli! Sono freddo! Ma vatti una fangola! No! Puttana! Che la due giù!